Quella del beato Antonio D'Affano, il frate Francescano, le cui spoglie mortali dovrebbero trovarsi murati in una intercapedine, in un muro di pochi centimetri di spessore, confinante tra l'ex convento dei frati a Santa Maria Nuova, sta diventando il feiettone stivo fanese. Una vicenda che sta appassionando gli animi di comuni cittadini e di qualche esponente politico ed ecclesiastico come il vescovo Trasarti in questa sonnecchiante fine estate. Una vicenda che sta assumendo contorni a metà strada tra il nome della Rosa e la documentazione storica, venuta la ribalta, non si sa bene come e precisamente da chi, in occasione del abbattimento del convento per edificare poi un complesso residenziale. Dovrebbe essere realizzata dall'impresa, una volta edificato il complesso, una porta tra la parte che rimarrà al convento dei frati minori come residenza e la chiesa stessa, quindi ben distante dalla parte destinata ai privati. La porta dovrebbe essere realizzata proprio nel punto esatto dove dovrebbero trovarsi i resti del beato Antonio D'Afano. Ma padre Amandolini, che abbiamo raggiunto questa mattina, residente nella chiesa assieme ad un confratello, si stupisce per il gran bailame creato attorno al beato e su tutta la vicenda getta acqua sul fuoco. Sì, io prima di tutto mi sono meravigliato perché si dice, si dice, ma sul si dice io penso che non si può costruire tanto. Si dice ad esempio che nella lunetta del Perugino dietro ci sia scritto un nome eccezionale, quello di Raffaello. È vero? Non è vero? È vero che in quella porta lì che si aprirà c'è un morto? È vero? Non è vero? Non lo so. Bisogna vedere. Io sono convinto di una cosa, che sul si dice, su quelli che i frati hanno tramandato in modo semplice, così descrittivo in maniera incompleta, non è credibile. A mio avviso e il mio parere penso che sia un falso. Non ci sono tracce scritte, non ci sono… Ci saranno anche qualche cosa, ma sempre sul si dice.